in generale si potrebbero dire tante cose sull'economia che a volte è ingiusta che a volte è troppo libera e che altre volte troppo chiusa poi in paesi con egemonie dittatoriali o quasi un'economia potrebbe essere molte volte palesemente stagnante o peggio ancora discendente ci sono anche limitazioni di tipo culturale sociale o magari relative al territorio o alle materie prime ma detto questo perché le economie in generale tendono a crescere ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro risparmiatore investitore della porta accanto nonché educatore finanziario aef ed autore del libro da meno 35 mila zero in 18 mesi libro del quale trovi link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove ti racconto la mia personalissima esperienza da debitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole trovi link qui sotto sia per la versione cartacea che per quella kindle un'economia si forma naturalmente dall'azione umana aggregata un ordine spontaneo molto simile al linguaggio gli individui commerciano fra di loro per migliorare il loro tenore di vita migliori standard di vita sono possibili quando il lavoro è più produttivo e molte volte questa maggiore produttività è guidata dalla specializzazione dall'innovazione tecnologica e dal capitale circolante l'unico modo sostenibile per far crescere l'economia potrebbe essere in sintesi ricapitolato come un'azione continuativa nell'aumentare la produttività ma in realtà e in generale è molto di più ma cos'è nello specifico e come si forma l'economia la maggior parte dell'economia si distingue a grandi linee delimitando la secondo dei criteri geografici europa stati uniti cina oppure paesi sviluppati emergenti e così via anche se poi queste dinamiche siano molto più blande oggigiorno soprattutto legato al fatto che l'economia internazionale è fortemente interconnessa quella che noi chiamiamo globalizzazione ciò non toglie che effettivamente i confini geografici giocano tuttora un ruolo importante se non vitale alle economie non ci vuole uno sforzo governativo o pianificato per creare un'economia ma ce ne vuole uno per limitarla e modellarla in maniera artificiale fondamentalmente un'economia si forma quando gruppi di persone sfruttano le loro abilità interessi e desideri unici per commerciale fra di loro in maniera volontaria le persone commerciano perché credono che questo li renda migliori più ricchi che vada a aumentare il loro tenore di vita storicamente viene introdotto una forma di intermediazione il denaro per facilitarne il commercio le persone vengono ricompensate finanziariamente in base al valore che gli altri attribuiscono ai loro risultati produttivi per cui tendono a specializzarsi in ciò che li ritiene o che li fa ritenere più preziosi quindi scambiano scambiamo la rappresentazione portatile del loro valore produttivo appunto il denaro con altri beni e servizi la somma totale di questi sforzi produttivi indicata come economia ma come dicevamo inizialmente ci sono forti limitazioni relative a diversi aspetti che potrebbero limitare la crescita dell'economia per esempio basta guardare l'economia delle due coree fatta dalle stesse persone stesse risorse stesse possibilità ma con restrizioni completamente diverse attuate dai governi la forma politica ne regola la possibilità di eccellere o di difficile e lì la differenza è molto marcata in linea generale anche se il discorso ovviamente è molto più complesso un lavoratore dipendente o meno dovrebbe essere molto più produttivo ed avere un valore intinseco più alto laddove sia in grado di lavorare e trasformare qualunque risorsa o bene in un prodotto finale sia un servizio o un prodotto fisico che venga percepito come un servizio o un bene di valore e per cui si può tranquillamente spaziare qui da un calciatore che vende un'esperienza di gioco allo spettatore o un fan a un coltivatore diretto che produce mele di altissima qualità è il contesto di un ampio bacino di attori economici che rende possibile questa crescita le economie in crescita trasformano quello che ha un valore minore in qualcosa che vale di più e cercano di farlo nel tempo minore possibile questo surplus di beni e servizi facilita il raggiungimento di un certo tenore di vita questo è il motivo per cui gli economisti sono così preoccupati per la produttività e per l'efficienza è anche il motivo per cui i mercati premiano coloro che producono più valore agli occhi dei consumatori ci sono una manciata di modi per aumentare la produttività reale il più ovvio è avere strumenti e attrezzature migliori che gli economisti chiamano beni capitali l'agricoltore con un trattore è più produttivo di un agricoltore con una sola pala sempre che ce ne siano rimasti sulla faccia della terra ci vuole tempo per sviluppare e costruire bene strumentali il che richiede risparmi e investimenti i risparmi e gli investimenti aumentano quando il consumo presente viene ritardato per il consumo futuro il settore finanziario bancario e i suoi interessi fornisce questa funzione nelle economie moderne l'altro modo per migliorare la produttività è attraverso la specializzazione i lavoratori migliorano la produttività delle loro competenze e dei beni strumentali attraverso l'istruzione la formazione continua la pratica e le nuove tecniche che vengono acquisite quando la mente umana comprende meglio come utilizzare gli strumenti umani vengono prodotti più beni servizi e l'economia cresce ciò aumenta il tenore di vita ovviamente ci sono tantissime tematiche molto più complesse anche quelle di natura psicologica e sociale che non sono parte delle tematiche di questo canale ma in linea di massima volevo dare delle indicazioni sulla domanda che molti di noi si pongono e cioè perché alcune economie crescono e tendono a crescere mentre altre rimangono al palo se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma a te costa un attimino del tuo tempo ma come puoi ben capire per me significa il mondo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci e un prossimo video ciao a presto